... Secondo il rigattiere, la classidra chirale è estremamente fragile. È meglio trasportare a mano questo genere di merce. Questa è una creazione del rigattiere. Sam, quell'esoscheletro aumenta la velocità. Accelera il movimento muscolare di chi lo indossa. C'è anche una funzione di sovralimentazione se devi alzare i tacchi alla svelta, ma prosciugherà la batteria rapidamente. E pensare che l'ha creato usando degli scarti. Un talento simile non deve andare sprecato. Un talento simile non deve andare. Un talento simile non deve andare. Un talento simile non deve andare. Un talento simile non deve andare in una persona. Grazie a tutti. 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 Hmm. Grazie a tutti. 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 Non è nulla di pericoloso, vero? Oddio. Non avrei mai pensato di rivederla. Fammi guardare più da vicino. Oh, incredibile. Non so come ringraziarti. Sono contenta di far parte di far parte dell'Euca. Grazie a tutti. Tornerai da queste parti, vero? Tornerai da queste parti, vero? portami con te. Ti prego. Io devo rivederlo ancora. questa l'ho fatta per lui. Questa l'ho fatta per lui, lo sai? quando i terroristi hanno attaccato. Quando i terroristi hanno attaccato, mia madre e io siamo riuscite a salvarci appena in tempo. Poi l'ho cercato con tutte le mie forze, lo giuro. Ma non sapevo proprio dove trovarlo. Però non è per questo che ho smesso. A mia madre non era mai piaciuto. E non ne faceva certo mistero. Ma non avrei mai pensato che sarebbe arrivata anche a mentire. E quando mi ha detto che era morto, io le ho creduto. Finché non è arrivato il messaggio. È lui. È davvero lui. Non avrei mai dovuto smettere di cercarlo. Dentro di me. Io lo sapevo che lui era da qualche parte. Però non potevo lasciare mia madre da sola. Così ho cercato di farmene una ragione. E non ci sono riuscita. Nonostante abbia provato a dimenticarlo, ero bloccata nel passato. Senza poter andare avanti. Mi porti da lui. Dai, ti scongiuro. Sono pronta ad andare. Anche adesso, se vuoi. Basta solo che tu lo dica. Noia. Noi. Noia. Non ti c'è? In perciò noi. Quella è una pistola che spara emoproiettili, cioè pallottole caricate con il tuo sangue. Dovrebbe riuscire a ferire le CA in cui ti imbatti. La pistola estrae sangue dal tuo corpo o da sacche apposite per ricaricare le sue cartucce. La quantità varia a seconda di quanto a lungo premi il grilletto. Premendo il grilletto più a lungo carichi più sangue e aumenti i danni inflitti alle CA. Vedi solo di non morire di sanguato, d'accordo? A differenza del sol... Ovviamente qualsiasi caduta o impatto col terreno potrebbe causare delle ferite al tuo cliente. Perciò muoviti con cautela, ora più che mai. Perciò muoviti con cautela, ora più che mai. Tengo io la clessidra. Non voglio che si rompa. Ordine assinata. Grazie a tutti. 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 Don't give up on me... Give up on me... Give up on me... Oh... 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 Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sei ferita? Grazie, Bridges. Ancora non ci credo che sei viva. Volevo dirlo io, sciocco. Credevo che fossi morta. Mamma diceva lo stesso di te. L'ho tenuta con me. Sempre. Ma dopo l'attacco, si era bloccata. Ho pensato di ripararla per far scorrere la sabbia. Ma sembrava come se voltassi pagina. Come dimenticarti. Beh, ora volteremo pagina insieme. Insieme. Io e te. Se tu sei pronto. Ma certo. Però a quel tempo non vendevi robaccia. Riparavi gli oggetti e li rendevi come nuovi. Raccogliere dei pezzi e poi farci qualcosa di bello. questo lo so fare bene anch'io. Ma direi che questo pezzo non ci serve più. L'unico tempo che mi interessa è quello che passerò con te. Ora noi conteremo il tempo che passa insieme. Ti sto chiedendo di sposarmi, sciocco. Certo che sì. Certo. Sì. C'è un'altra cosa. Cosa? Non odiare, mamma. Ti prego. Devi dirle che è quello che vogliamo. Aiutala a comprenderlo e ad accettarlo. perché ha bisogno di noi e io ho bisogno di lei. Va bene. Io sono bravo a sistemare le cose, sai? Scusa se mi sono comportato da stronzo. Ho trattato male te e Fragile. Ricomincerò da zero con la mia ragazza. E anche se non faccio la metà di quello che voi fate ogni giorno, io ce la metterò tutta. se avete qualcosa da riparare, chiamatemi. Le Uca continuo pure su di me. Ci vorrà un po' ad abituarmi, ma era ora ormai. Ci uniremo alla rete delle Uca. Non vi deluderò. Lo giuro. Non ti dimenticheremo mai. Grazie. C'era un po' ad abituato. Ciao! No! Ciao! No! 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 Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Credo che completarla possa rivelarsi utile per tutti. Controlla i dettagli al terminale. Sam, attento. Rilevo livelli chirali anomali a nord di South North City. I dati indicano cronopioggia intensa in zona. Sembra una specie di nubifragio, ma non ho mai visto nulla di simile prima d'ora. Anche se, a essere sinceri, non è che la veda. La tempesta dovrebbe essere fuori dal laboratorio, ma non posso indagare per via della bambina. Non sembra aver causato danni rilevanti, ma potresti darci un'occhiata. Però stai attento a non avvicinarti troppo, d'accordo? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Grazie.